Buongiorno a tutti da Fine in Cucina e non solo. Eccoci al secondo video della nuova rubrica Outfit Very Curvy Girl. Questo appunto è il secondo video dove vi mostro una tipologia di abbigliamento pratico per tutti i giorni. Composto da un jeans, una blusa con manica ricamata, un paio di sneakers da tennis normali e una borsetta da giorno. Il costo complessivo è di circa 35 euro. Considerate che ho pagato le scarpe 8 euro, i jeans 8 euro e la maglia forse 10. La borsetta era di mia figlia. Occhiale da sole e siete pronte per uscire a fare una bella passeggiata o la spesa o comunque un ritrovo con le amiche. Ci vediamo al prossimo video Very Curvy Girl. Grazie a tutti.